Lorenzo Lococo, Presidente del Tribunale per i diritti del malato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le liste d'attesa per seguire un esame qui in ospedale purtroppo si allungano sempre di più. In che modo intervenite? Ma cosa occorrerebbe per risolvere definitivamente il problema? Lo abbiamo sempre detto, per risolvere definitivamente il problema, secondo noi ci vuole l'assunzione del personale. Perché senza personale il problema non può essere assolutamente risolto. Ieri purtroppo ho visto, non so se tutti avete visto la promessione all'Arena di Giletti e c'era il nostro beneamato Presidente della Regione il quale diceva che già al pronto soccorso tutto va bene, tutto va bene, tutto a posto. Noi che abbiamo il posto della città possiamo semplicemente dire, senza essere smenditi da nessuno, che la gente soffre. C'è un grosso problema. La soluzione certamente non dipende da noi, dipende dalle altre gerarchie. Però la realtà è semplicemente una, che non si risolve mai il problema. Lei ha detto che occorre più personale, ma facciamo un esempio. Che tipo di attese ci sono per un esame banale? Per un esame semplice però importante ovviamente. Ma abbiamo, ora non siamo molto documentati, però l'ultima documentazione che avevamo, mi pare, per la chirurgia vascolare, secondo alcuni esami ci volevano 18 mesi. Non c'è meno di un'animo, non parliamo di un'ecografia, di una risonanza magnetica, ci vuole tempo. Un ecodoppler, ecco io ho l'esperienza personale, io a casa mia dobbiamo fare un ecodoppler da 7 mesi che siamo prenotati. Ora dico, è normale che la gente debba soffrire. Noi diciamo, essendo i rappresentanti della cittadinanza, se la gente non ha soldi, dico alle altre sfere, come debbono fare? Infatti non per nulla 11 milioni di persone sono in crisi perché non avendo danaro, non avendo soldi, anzi euro, non possono fare gli accertamenti. E questa è la realtà. Siamo molto scoraggiati, ve lo dico con tutta onestà. Tutti fanno, tutti agiscono, decreti, contro decreti, liste, fanno questo, fanno quello. Non vi dico, decreti, se guardate al computer, decreti ce ne sono, non venire mai. Poi però elegantemente se ne escono perché dicono, sì, noi abbiamo scritto, noi abbiamo chiesto, Palermo ci boccia perché non ci sono i soldi. E allora che fa? Il gatto che si morde la coda, ci prendiamo in giro. Prendiamo in giro la cittadinanza. La realtà è semplicemente questa, chi soffre è la cittadinanza. Spero che lo capiscano. Io ieri sono rimasto interdetto quando ho sentito il Presidente della Regione all'arena che tutto va bene. Tanto che ho fatto un'email a Giletti, non so se l'ha letto, dico ma ci prende in giro il Presidente della Regione, ma ci prende in giro, qua c'è il pronto soccorso, gente che entra immediatamente esce fuori e sta una notte. Ma non hanno tolto perché qua, ecco, pronto soccorso i medici, gli infermieri lavorano alla cremenda, ma se manca il personale, come devono fare?